Carissimi amici ancora ben ritrovati sul mio canale, ancora una forte condizione di top 5, sapete bene che top 5 l'avevo presentato per la ruota di Bari e quindi a Bari abbiamo già una condizione da questa previsione con i 5 ambisecchi a Bari che va portata avanti ma attenzione perché come vi ho detto il 90 si presenterà a Bari Genova, vi ho presentato il 90 da paura e il top 5 ce lo conferma perché abbiamo una condizione su Bari con 5 ambisecchi presentata già, la trovate sul mio canale scorrendo i video e c'è la condizione anche per giocare a Genova, questo mi conferma ancora quanto sia forte questo 90 su queste due ruote e vi dico non perdete questa previsione perché a partire dall'estrazione di martedì 9 giugno sempre per massimo 13 colpi ma credo che arriverà questa vincita nei primi colpi di gioco giocheremo il 90 secco su Genova anche prima e quinta posizione e qui ho veramente una top 5 di ambisecchi da favola, sono bellissimi, giocheremo 5 ambisecchi con il 90 sulla ruota di Genova per andare a centrare un grandissimo ambosecco a ruota secca, io vi consiglio di prenderla perché gli abbinamenti sono molto molto potenti, sono soltanto 5 ambi unica ruota, si gioca davvero con pochissimo la giocata è ristrettissima e mi aspetto anche da questa condizione, da questa top 5 un grandissimo ambosecco, come al solito richiedetemi la previsione tramite email all'indirizzo che vi lascio in descrizione, come sempre la mia modalità vincita avvenuta con pagamento soltanto se uscirà l'ambosecco a ruota quindi partiremo alla grande con delle previsioni bellissime che vi sto dando con il 90 questa è la top 5 su Genova, vi ho dato già la top 5 su Bari quindi sono due ruote che sono in grande conferma quindi attenzione a puntare bene il 90 e vi attendo in privato per questa previsione speriamo di essere subito vincenti per adesso un saluto a tutti, Mr. Sbancolotto